Parma Il prossimo estate sei prenotato per la vacanza Quello che ho detto già a tutti quanti Sarei l'uomo più felice del mondo Se dovesse andare in nazionale Io devo sponsorizzarmi solo con le prestazioni e basta Ti aspettavi di un'accoglienza così negativa? Anche peggio Però la cosa fondamentale è portare a casa i tre punti Aia, Ermi Sto parlando, sei in serio? Immaginavo che era una cosa del genere Visto che sono interista è orgoglioso interista